Ciao a tutti ed eccoci qua in questo nuovo video. Stessa posizione di ieri ma con novità ben 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 migliori. Ebbene sì ragazzi, perché oggi, 30 settembre 2020, si è forse raggiunti a una fine di una telenovela che ci sta perdurando praticamente per tutta l'estate, per tutto il calciomercato. Ormai non si può parlare più di calciomercato estivo, ma è un calciomercato quasi autunnale, diciamo così, ormai siamo in autunno, e finalmente si è giunti alla fine della trattativa di Rajan Ainggolan. Questo perché finalmente, finalmente sì, sembrerebbe essersi trovato l'accordo tra Inter e Cagliari per l'acquisto a titolo definitivo di Rajan Ainggolan, che appunto sembrerebbe imminente. Ormai l'accordo con il giocatore c'è già da tempo. In queste ore, a quanto pare, sarebbe stato trovato l'accordo con l'Inter anche, e adesso parleremo bene della formula. Però, fatemelo dire, fatemi fare i complimenti, se dovesse essere veramente ufficiale, fatemi fare i complimenti miei personali, ma dobbiamo farglieli tutti. A Tommaso Giulini e a carta, perché hanno fatto un lavorone quest'anno. Da un punto di vista economico hanno fatto un lavoro, forse anche quasi maggiore, sia da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista mediatico l'hanno fatto, perché portare Godin a Cagliari è anche una mossa di marketing, abbiamo di vedere, quindi la stessa cosa Ainggolan l'anno scorso, però l'anno scorso abbiamo portato giocatori, abbiamo semplicemente reinvestito i soldi di Nicolo Barella, se andate a vedere, i 50 milioni di Barella li abbiamo reinvestiti per prendere Simeone, pagato quest'anno, Rogue pagato quest'anno, per una cifra intorno ai 25 milioni, tutte e due, abbiamo pagato Nandes 18 e poi sono arrivati Nainggolan in prestito e un'altra sfida di giocatori un po' in prestito, cioè tra parametro zero, prestiti, comunque altri acquisti non sono stati fatti quest'anno, gli acquisti ne abbiamo fatti tanti, se andate a vedere, perché abbiamo comprato Tripaldelli, è arrivato Zappa, è arrivato Godin, è arrivato, sono tornati comunque tanti anche i prestiti, è tornato Pinna per esempio, sono tornati Cerri, è tornato Bradaric, non so poi se verranno mantenuti, Payaz è rimasto, abbiamo comprato, come si chiama, Sottil, cioè comunque il mercato quest'anno è stato veramente ampio, se andate a vedere, da un punto di vista di parco giocatori, e se valutiamo anche le tempistiche con cui è stato fatto, c'è da fare veramente tanti tanti complimentoni, poi ovviamente le valutazioni un po' più tecniche verranno fatte quando il campionato verrà iniziato e appunto si inizierà a valutare bene gli acquisti anche sul campo, però sulla carta è un mercato veramente quasi da 8 abbiamo dovuto vedere per questo Cagliari, però comunque stiamo parlando, stiamo tornando al discorso Nainggolan, il giocatore sembrerebbe veramente vicino, sembrerebbe veramente un passo, la trattativa, adesso parliamo della formula, l'acquisto è finalmente, acquisto è lo definitivo, 12 milioni di euro, adesso è da vedere se saranno 12 milioni di euro netti subito all'Inter, oppure saranno 12 milioni dilazionati in due anni, quindi saranno 6 milioni quest'anno, 6 milioni l'anno prossimo. Inoltre nella trattativa saranno inseriti due giocatori del Cagliari, due giocatori primavera del Cagliari, ex primavera ormai, perché fanno parte della prima squadra e soprattutto giocatori che stanno in questo momento in prestito all'olbia. Stiamo parlando di praticamente il giocatore sicuro che andrà al leader, ossia Riccardo Ladinetti. Centrocampista classe 2000, fuori quota ormai dalla primavera, l'ha fatto anche l'anno scorso, è stato capitano, fatto veramente benissimo, mi sembra 4 gol e 5 assist l'anno scorso in primavera. quest'anno è stato anche, ha avuto anche la gioia tra l'altro l'anno scorso con Zenga di debuttare in Serie A finalmente, come potete vedere perché un giocatore come lui da tempo doveva esordire e non l'ha fatto né con Maran, ma neanche, cioè appunto non l'ha fatto con Maran, l'ha fatto con Zenga e gli diamo il merito. Lo stesso di Francesco su me ci avrebbe puntato, però ragazzi probabilmente la volontà di prendere Nengolan supera quella di far crescere Ladinetti. Ladinetti che io sinceramente è un giocatore che valuto molto positivamente, questo perché innanzitutto è un regista, che è un ruolo che in questo momento al Cagliari lo sanno fare pochi, abbiamo Oliva, abbiamo Marin, però Ladinetti è il vero regista di questa squadra, il vero regista di ruolo di questa squadra è Ladinetti. Parliamo comunque anche di un giocatore, si può dire che ha una grande leadership perché in primavera comunque è capitano, è stato capitano e secondo me appunto può diventare veramente forte, può diventare veramente forte se è messo in condizioni ovviamente quando arriverà all'Inter difficilmente verrà messo in prima squadra, verrà fatto giocare in prima squadra, molto probabilmente o verrà girato in prestito o comunque verrà tenuto magari come ultimo del centrocampo, dubito verrà passato in primavera perché comunque ormai ha 20 anni quindi non penso vada a giocare in primavera, però se dovesse in prima prova da l'Inter l'unica vera opzione per poi gestirlo bene è girarlo in prestito, che sia in serie B, che sia in un'altra di serie A, magari potrebbe tornare, chi lo sa, magari riusciamo a prendere Ladinetti, riusciamo a tenercelo magari un altro anno, però non avrebbe molto senso comunque come trattativa, quindi per me comunque Ladinetti è un giocatore a me potete dire per una ingolanza sacrificabile, ma da un lato mi dispiace perché innanzitutto è sardo, con i sardi qua a Cagliari siamo abbastanza legati, lui è di Salluri quindi comunque non è zona mia, però comunque sia, un pochettino ci avviciniamo e centro Sardegna, io sono del Cagliaritano più o meno, quindi vabbè, siamo lì, quindi niente, io comunque gli auguro il meglio, gli auguro veramente il meglio a Ladinetti perché se lo merita, se lo merita, se lo merita. L'altro giocatore che probabilmente andrà all'Inter c'è una scelta di tre, non è stato ancora rivelato il secondo nome, però è uno tra Marigosu, Biancu e Gagliano. I primi due sono due centrocampisti, soprattutto Marigosu è più un trequartista barra ala, Biancu è un centrocampista mezzala, mentre Gagliano ovviamente è una punta centrale. Che dire di questo? Di questi tre giocatori, allora Marigosu è sinceramente quello che valuto più positivamente. Molti penseranno che avrei detto Gagliano, però Gagliano allora sì, ha segnato il gol contro la Juve, è un buon attaccante, tra l'altro ha già debuttato all'era di Lopez in prima squadra, nella sconfitta per Pordenone, però anche lui non lo so, sinceramente lo valuto un po', non lo so, è anche lui un po' un fuoricuoto ormai, anche lui mi sembra sia classe 2000, Marigosu invece è classe 2001, è un trequartista che ha un piede ragazzi, c'è un piedino questo qua per gli assist che è veramente niente male. Centrocampista lui sì, è della mia zona più o meno decimo manno e è veramente un grandissimo trequartista. L'anno scorso in primavera ha segnato soltanto una rete ma ha fatto ben nove assist, quindi ragazzi stiamo parlando sicuramente di un giocatore veramente valido. L'altro invece è Biancu che, allora, non lo conosco molto bene, ai tempi non seguivo molto la primavera quando c'era lui, però non avendolo comunque, come dire, visto molto in prima squadra, non vedendolo anche proprio in prima squadra, difficilmente è un giocatore su cui il Cagliari punterebbe molto. Ormai è da tempo in prestito ad Olbia dove gioca ma non esplode, non credo esploda, ormai non ha più quell'appeal diciamo. È un giocatore che sì, nell'amichevole con l'Olbia l'ho vista ed è un giocatore buono, però sinceramente è il più sacrificabile. Quindi se dovessi mandare via due giocatori, manderei via Ladinetti e Biancu. Perché Marigoso mi piace, Gagliano invece è forte, è un attaccante che può tornarci utile e quindi niente, molto semplicemente questo. Comunque sia, parliamo di Langolan, vogliamo veramente parlare di Langolan, cosa può dare a questo Cagliari? Beh, semplicemente, innanzitutto si cambia modulo. Si potrebbe cambiare modulo, anzi si potrebbe, usiamo il condizionale, si potrebbe cambiare modulo. Questo perché con Langolan puoi svariare, puoi usare sia un 4-3-3, con Langolan usato magari sia come mezzala ma anche come mediano davanti alla difesa, ma puoi cambiare modulo e fare un bel 4-2-3-1 con due mediani che potrebbero essere magari Rog e Marin, con Nandes usato come centro-destra tra i 3-3-quartisti, Langolan come centrale, gioco per la sinistra e come punta ci mette Simeone o Paoletti, vedete voi. Quindi ci può dare molti più spunti anche da questo punto di vista soprattutto tattico, ma da un lato anche umano, ragazzi, ragione Langolan. Oltre ad andare a prendersi, a mio vedere, meritatamente la fascia da capitano, ragazzi, è un leader, è praticamente un leader, io l'ho detto un paio di volte, credo, ma vedere addirittura Walter Zenga o anche Rolando Maran confrontarsi con lui, con Rajon Langolan per i cambi, per la tattica, questo mi fa capire quanto è importante questo giocatore in questo ambiente. Inoltre lui non è per niente, non è per niente restio ad accettare perché lui vuole tornare qui, lui vuole essere il protagonista, ormai ha 32 anni, non è più un giovanotto, quando era arrivato qui era sì, un giovanotto, lo possiamo dire, era arrivato dal Piacenza, ai tempi, veramente era giovane, adesso c'ha 32 anni, adesso c'ha 32 anni, quindi vuole una piazza che lo faccia giocare titolare, che lo faccia essere al centro del progetto, e il Cagliari è una di quelle, l'Inter gli avrebbe comunque concesso sì, di mantenersi in rosa, ma di restare comunque con un ruolo da comprimario, si sarebbe giocato il posto comunque con Vidal, con Brozovic, con Barella, comunque non sarebbe stato un titolare al 100%, non sarebbe stato leader di quel centrocampo. A Cagliari sicuramente potrebbe fare 6 in forma, 38 partite su 38, cioè ragazzi, ovviamente mi sembra più che giusto. Certo è che noi andiamo a cedere due giocatori di futura prospettiva, perché comunque l'Adinetti è un giocatore di prospettiva, uno tra Marigoso, Unghegliano e Bianco uguale, per prenderci un giocatore che probabilmente ti può fare altri due o tre anni ad altri livelli, poi forse ti si invecchia e che fai con Nainggolan vecchio? Non lo so. Quindi quello è un po' il mio punto interrogativo, però comunque godiamoci il presente, godiamoci che abbiamo, godiamoci Raja Nainggolan, godiamoci l'attuale Raja Nainggolan, perché se andate a vedere adesso, l'ho visto in un video di Gaboman, ha fatto una specie di spina dorsale, cioè se andate a vedere il Cagliari in ogni ruolo, tranne l'attacco, che comunque noi ci giochiamo bene anche in attacco, abbiamo un top per ogni ruolo, Cragno in porta, che è un top se andate a vedere, Godin in difesa è il top, Nainggolan a centrocampo sarebbe il top, e in attacco comunque non stiamo messi male, tra João Pedro, Simeone, Pavoletti, quando vi tornerà forse Gaston Pereiro, comunque il parco giocatore anche in attacco non è male, quindi se andate a vedere si è formata questa specie di spina dorsale, questo telaio del Cagliari che sicuramente può farci, diciamo bene da un lato di vista tattico, da un lato di vista carismatico, perché Godin ragazzi è un leader anche fuori, Nainggolan uguale, e quindi non possiamo che non essere contenti. Per quanto riguarda quelle altre trattative, io qua stavo guardando sul tablet qualche trattativa, allora sinceramente adesso non ho visto la vereticità, non so se si dice così, la vereticità comunque delle varie trattative, però a quanto pare il Cagliari starebbe facendo anche un tentativo per Bruno Perez, in questo momento il Cagliari comunque ricordiamolo, sta trattando anche Sabelli dal Brescia, la trattativa comunque è ben avviata, la distanza sarebbe minima, valerebbero comunque 500.000€ perché il Cagliari offre un milione mentre il Brescia ne vuole un e mezzo, quindi comunque la trattativa è lì, è sul punto di chiudersi, però per pararsi forse il Cagliari starebbe pensando a Bruno Perez, giocatore che oltre ad essere stato positivo al coronavirus nell'ultimo periodo, a Roma non è ben visto dalla piazza, però l'unico difetto è che ha un ingaggio non indifferente e poi se andate a vedere la Roma in quella fascia di campo, in quella zona di campo ha soltanto lui e Karlsdorp e cedere uno dei due significerebbe rimanere con uno solo e mi sembra abbastanza difficile che la Roma si privi, soprattutto in questo momento del mercato di un giocatore come lui, perché appunto sono gli unici due che hanno, cioè sarebbe anche dovuto partire Karlsdorp, a quello che so, sarebbe dovuto finire all'Atalanta o al Genoa, comunque sarebbe dovuto partire anche lui, Perez sarebbe dovuto rimanere, però non lo so, quindi adesso è cercato dal Cagliari. Il giocatore comunque arriverebbe a parametro zero, sia chiaro, non andremo a pagare uno spiccio alla Roma, andremo a pagare soltanto il suo ingaggio che è comunque importante perché sono 3 milioni di euro quelli che prende Bruno Perez a Roma, si potrebbero spalmare volendo in un biennale da un milione e mezzo, sinceramente Bruno Perez è un buon giocatore, tra l'altro Di Francesco ha avuto, mi sembra, anche a Roma, non so sinceramente se ce l'ha avuto lui oppure era già andato via all'impresto in Brasile. Comunque, parliamo di un giocatore che da un lato offensivo può fare veramente bene, perché ha una grande spinta, è veloce, ha anche un piede interessante per i cross, un po' meno da un lato difensivo, perché è il classico terzino brasiliano che spinge ma non sa difendere, quindi se proprio dobbiamo prendere Bruno Perez a quel punto sarebbe più dono e passare una difesa a tre, perché come esterno in centrocampo Perez sarebbe molto meglio, invece che come da terzino basso. Gli altri giocatori invece che stiamo trattando, oltre ad un as che sicuramente non ho trovato molte conferme, si parla che sarebbe la prima scelta tra i vari esterni del Cagliari, che si potrebbe prendere il Cagliari, però non ho trovato grandi notizie in quest'ultima ora, magari domani spunterà qualcosa, in ogni caso non ho trovato conferme da questa tentativa. Più che altro si parla sempre comunque di Mancosu, che potrebbe arrivare come low cost, comunque potrebbe arrivare come arrivo all'ultimo insieme a Nainggolan e comunque potrebbe rinforzare un reparto che in questo momento, a livello di numero soprattutto, non ci sta dando grandi garanzie, ovvero la mezziali, perché comunque siamo andati a vedere, Nandez, abbiamo Nandez, Rogue, Caligara, Marin, cioè comunque c'è Faragò adattabile, quindi no, in realtà Faragò, quello è il suo ruolo, cioè, ok? Quindi, ci siamo andati a vedere, comunque andare a prendere Mancosu non sarebbe neanche una brutta scelta, poi nel 4-2-3-1 sarebbe un vice di Nainggolan, non costa moltissimo, anzi, non costa praticamente nulla, se ne dovete vedere, perché andiamo a pagarlo 3 milioni, il cartello potrebbe anche abbassarsi se al Lecce interessasse magari un giudere dei nostri, quindi si è parlato di Pisacani, si è parlato di Despotov, che io sicuramente non farei partire entrambi, ma si è parlato anche di Marco Piaz, e Marco Piaz lo farei partire io personalmente, perché ormai non ha più nulla da dare a questo Cagliari. Comunque sia, ho parlato tantissimo, sono in extra bit, voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, mi raccomando, e lasciate qua qualche commento, quindi fatemi sapere, vi lascio anche qua sotto i miei due profili, quello privato mio, se volete seguitemi, e soprattutto l'angolo dello sconvolto dove metto tante notizie, e soprattutto dove metto le notizie in anteprima, quindi mi raccomando seguitemi anche lì, fatemi sapere cosa ne pensate, e niente, forse anche se tu sempre, mi raccomando Raja, anche tu Mancosu, ciao ladinetti, ciao a tutti ragazzi, forza Casteddu sempre!